Ciao a tutti ragazzi da Corazionto9, bentornati sul mio canale per questo video video Oggi siamo qui ragazzi con una nuova parte di Nozuman11 Ok, allora dobbiamo andare alla casa di Marche, ok, senza fare così le cose stupide che avevo fatto dalla scorsa parte Ok, abbiamo subito le nostre sfide ovviamente Se volevo, cioè non ho, come si dice, fatto... Non sono andato direttamente alla casa di Marche e ho cominciato là perché volevo proprio ricominciare dove eravamo rimasti Così anche che non vi perdiate, diciamo così perché saltare troppo ragazzi dopo non è così bello, ok Haza, mia mamma Haza, ok Casa qui si trova qui a nord, sopra il parco Ne ha una sfida? Figo Ok, miracolo più che figo Ecco qui la nostra mamma Sharon Sapete che non me lo ricordavo nemmeno si chiamasse Sharon, ok Bene, allora mangelo senza fare complimenti, adesso dirà perché è la sua frase preferita Avete capito, poi Harry Potter, perché è un Harry con gli occhialetti a tondino, che vuoi che sia Harry Potter che ha fatto, insomma, questo è verità Jimmy e Marche in verità sarebbe Severus e... Severus... Albus e Severus sarebbe Marche, però vabbè, solo chi ha visto Harry Potter può capire Quindi Mary lo lascia stare Ok Più appassionati, in effetti lui assomiglia più a suo nonno, dice infatti, perché i suoi genitori non sono veri e propri appassionati Wow Wow No, ha molto senso quello che ha detto, comunque Va bene In Age 11 Il tabù Wow Reazione molto strana, dire ragazzi, delle reazioni molto strane Sì Ok Dopo questi quasi tre minuti leggere, sono pieno come un cannolo, va bene Contento te Il giornale oggi a mare An calcio oggi che Wow Aia Tra l'altro calcio oggi in prima pagina, mi dicono il calcio giovanile, delle qualificazioni per il torneo regionale Che poi, no vabbè, no, questo è un po' insensato, vabbè Ma, questa è la magia di Nozuma Eleven, ok Tutte queste sfide, non mi piacere Vabbè, risolviamo questa storia, va, del, questo risultato, 10 a 0 Ma io mi chiedo, no Se è così, sarà anche successo con la squadra prima, quindi con la Occult, no? Ma la Occult, cosa ha fatto? Beh, a parte una bella maledizione, dico, no? Che la Occult, insomma Non poteva anche lui fare denuncia, no? No, 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 non solo noi dobbiamo Che la camerina sembra quasi a favore nostro, non sembra Nerdoni, proprio nerdoni Vabbè, povero Occult, continuo a dire, però, vabbè Vabbè, lasciamo stare, questo è un po' un mistero, però, vabbè Chiavi sulla PC Andiamo a questa sala PC Andiamo, andiamo Ok, lasciami andare, abbiamo capito tutto Ok, chia, 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 chia Dai, andiamo So dov'è Eccolo Fai uno stronzo, posso dirlo Scusate, di solito non dico parolacce Però in questo caso ci sta Di certo le persone con un carattere del genere Neanche nella vita reale come le chiamate Sinceramente, vai C'è solo Nelly C'è solo la È riuscita Insomma, ecco Ok, Will I am viene con me Ok, torniamo al Medicafè, ragazzi Bene Quindi il centro Anche se sarebbe a destra il centro Comunque, vabbè Questa è sempre la magia di Nozumi Leaven Ok, vecchietta Ok Abbiamo già un conto di sospeso Vediamo di non peggiorare le cose Va bene Anche il palo Ok Non vogliamo più ketchup Grazie Però Eh, cosa ha detto? Cara, meglio Ok Andiamo Ok, siamo nella sala Molto segreta Anche se in realtà è dentro le voce Unibu Provo imbroglio Una bambola in costume Oh mio dio Oh, eccole Ci sta, ci sta Ok, questo è molto Cioè, loro Denunciano Noi alla polizia Perché loro hanno brogliato Vabbè, ragazzi Questa è la magia di Nozumi Leaven Non so cosa dire Questa è la magia di Nozumi Leaven E basta Ok Non è stupidità Non è generalità Questa è la magia Sì, anche Jack Però, dai Vabbè, dai Finiamo presto E non se ne parla più Scivolato, dai Willy Il goleador Guardatelo, Willy Assist man E poi Si propone Proprio Willy Oh mio dio Guardate dov'è In pratica Oh, fa gol Non fa gol Cioè, intendo È lì Oh, cioè Voglio dire Gol proprio di Willy Direi che ci sta proprio Il nerd giapponese È il senato di nerd giapponesi Grandissimo I famosi Giappomiglie Vabbè Lasciamo stare Facciamo uno scambio Vai, vai Oh mio dio Ragazzi Cosa bisogna dire In questi casi Questa è la magia Di Nazuma No, dai Veramente Veramente No, dai Questa mi dedulo un po' Però Vai, vai Curiamo l'anelli Vai, col blocco Però Vedo un po' Di Carenza Del blog In queste ultime parti Io sbaglio Sono io che non lo noto Cioè Vedo sempre i blocchi Però Di solito c'era il duo Blocco Blocco blog Chiamiamolo Il duo blocco blog Il duo blo blo Chiamiamolo il duo blo blo Ci sta Il duo blo blo Come c'è il duo X Max e Axel C'è il duo blo blo Ok Bisogna anche dire Che queste parti Stanno diventando Eccessivamente stupide Va bene E via Sfida Sfida così Dai andiamo ad anelli Sì Tanto vedere Willy lì Con il pallone Pronto a Avere la regia Della squadra È una cosa Di fantastico Però vabbè Andiamo ad essere Delle club Andiamo ad essere Della nostra manager Nelly 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 Eccola Guarda quanto Quanta ansia Nell'aspettarci Giusto Giustissimo Beh Guarda un po' Chi arriva A quanto pare Avete risolto Il problema Con le prove Dell'imbroglio In mano La polizia Non potrà far Finta di niente Ah ho capito Lei è stato l'unico In cui corre Da doppia voce Sai una cosa Mio giovane amico Al mondo Esistono tante persone Come quelle De l'utaco Bambini Nerdoni sudati Persone Che ricorrono A ogni sporco Trucco Per di raggiungere I loro No Questo l'ho detto A me Persone che ricorrono A ogni sporco Trucco Per di raggiungere I propri scopi E anche lui Per lo stesso motivo Oh Lascia stare L'importante È che rimaniate Sempre Allerta In bocca al lupo Per la prossima partita Mi auguro Di rivedervi Un torneo nazionale Goodbye My friend Ci vediamo Ha parlato di un calcio Non so se avete notato Ma Mark ha parlato di un calcio Ehi Mark Torniamo insieme Cos'è? È una Erano fidanzati No va bene A parte di scherzi Mark Non usarà la parola Cavolo Che qualche Qualche vegetariano Potrebbe Assolutamente Arrabbiarsi Tanto Storia d'amore Fra Bobby e Silvia Eh I numeri di telefono Bobby sospetto Si sa Il importante È che non sia anche Silvia sospetta Però adesso ragazzi Ai 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 Si is a good guy Si 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 dai Si 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 Guarda sono sti dialoghi Di fine parte E vabbè E vabbè ragazzi Questa è una magia Di non zoom 11 Ok Vabbè Ok Ok Ce ne abbiamo anche uno ragazzi Direi Eh Mark non è come eri E se ne ho io E via con il telefono Via con il triangolo Ok ragazzi Direi come se ne va Nelly E Silvia anche Perché Dovevo dire Silvia Mi ha scappato Nelly Però Tutte e due Insomma Ce ne abbiamo anche noi ragazzi La parte va a concludersi Quindi mi raccomando Bel mi piace Iscrivetevi Commentate ragazzi E noi ci vediamo Con una prossima parte Ciao ciao